Eravamo cambiato volto in ultime partite, è una squadra importante secondo me, non merita assolutamente la classifica che ha. Però al primo tempo mi è sempre andato molto equilibrato, loro hanno avuto questa situazione su palla inattiva e poi ci hanno sfruttato un nostro errore. Per il resto comunque la partita era in equilibrio, abbiamo fatto possesso palla sia noi che loro, le squadre erano ben chiusi, hanno difeso bene. Poi abbiamo avuto una buona reazione, un buon secondo tempo, dove comunque siamo arrivati diverse volte negli ultimi 20-30 metri senza avere quel guizzo finale. Abbiamo pareggiato su una palla inattiva in effetti, ci è mancato qualche cosina davanti come guizzo finale. Però poi abbiamo tenuto bene il campo e peccato, sull'ultima palla in pieno recupero, poi il calcio non si sa che deve andare a finire così. Direi che comunque onore al Teramo che ha fatto una buona partita, però la San Mettese ha dato tutto, quindi non c'ho niente da rimproverare ai ragazzi. Mancuso, ma soprattutto Di Massimo, un po' in ombra, pochi palloni sono arrivati in avanti a questi due giocatori, è d'accordo? No, i palloni sono arrivati, ci siamo distesi bene anche nel secondo tempo, probabilmente non è che si può aspettare che ogni partita Mancuso segna. Voglio dire, comunque ha fatto un grande lavoro anche oggi, ha messo in difficoltà gli avversari. Ripeto, forse ci è mancato una conclusione finale, poi diversi tiri, diverse situazioni ci sono stati, l'1-2, gli assist finali, in qualche cosa siamo stati poco lucidi, un po' appannati. Però per il resto la squadra ha fatto un buon lavoro.